Centro commerciale di Carcare 15.30 inizia la festa di Carnevale Il centro commerciale di Carcare è proprio come una grande famiglia che accoglie la clientela, sbaglio? No, non sbaglia perché effettivamente organizziamo quasi mensilmente delle attività o per i bambini o per gli adulti Viene spesso qua? No, al Carnevale o al primo anno? All'anno prossimo tornerete? Senz'altro Le piace il Carnevale? Bellissimo Una bella festa, insomma ci voleva con quest'area di carne Certo, a meno male che il tempo è bello anche che favorisce Abbiamo un Kinder Park che i genitori possono lasciare i bambini tranquillamente Perché c'è una ragazza che li tiene, li guarda, li tiene in custodia Un bel legame, una bella liaison fra il Carnevale di Mondovì e la Conad Oggi si è fermato al centro commerciale di Carcare Come è nata questa idea di unire queste due belle situazioni? Ma guarda, con il Carnevale di Mondovì noi è un parecchio anni che stiamo collaborando Perché abbiamo un punto vendita presente sulla piazza di Mondovì Abbiamo da una parte una sponsorizzazione pura, commerciale Aiutando quelli che si occupano dell'allestimento del Carnevale di Mondovì Da l'altra ne riceviamo comunque una immagine positiva Conad spesso si sofferma sulle categorie più deboli Sappiamo un occhio di riguardo per i bambini e per gli anziani Quale iniziative fate voi in particolare in questo senso? Poi con gli anziani abbiamo un'operazione che tutti i mercoledì Chi ha superato i 65 anni riceve da noi uno sconto del 5% su qualsiasi spesa che loro vogliono fare Adesso appunto con le scuole statali di Carcare Portare avanti un discorso sull'energia alternativa Dovrebbe crearsi anche un evento molto bello di auto d'epoca Cerchiamo sempre di dare un qualcosa al cliente, di coccolarci il cliente Grazie